La manovra di bilancio conferma che sulle tasse rimane il taglio per le nuove imprese, sul dirapia regionale, dal punto di vista dell'investimento e della spesa, confermiamo tutte le voci, siamo tradizionalmente più importanti, la cultura, l'università, vi dicendo, arriva come nuova entrata, molto importante, 35 milioni di euro sulle funzioni che ci sono state trasferite, sono tornate indietro dalle province e riguardano in modo particolare la difesa del suolo, le strade Exanas e una conferma dei 60 milioni sul sociale, che era un po' la voce attenzionata l'anno scorso, sembra difficile riconfermare, noi siamo riusciti a rimettere con la manovra 60 milioni, più i fondi europei che da quest'anno inizieranno a finanziare il sociale e la manovra di fine anno che porteranno a 70 milioni, quindi addirittura andiamo a incrementare questa voce.